Ciao carissimi, come molti di voi sanno già la situazione in guerra in Ucraina peggiora, ma nonostante peggioramenti a livello strategico, nonostante il fatto che il Presidente dell'Ucraina Zelensky gira per l'Europa chiedendo sempre più armi, sempre più sostegno, sempre più soldi, c'è un elemento di questa guerra che di solito il nostro mainstream, i nostri giornalisti, i nostri scribacchini occidentali, quelli che fanno la propaganda atlantista, non vogliono assolutamente toccare questo elemento legato all'energia, cari amici, l'energia che arriva dalla Russia e che continua ad arrivare dalla Russia, nonostante il fatto che gli Stati Uniti d'America hanno sabotato, hanno fatto esplodere i gasdotti Nord Stream, nonostante nonostante il fatto che le oligarchie occidentali hanno cercato in tutti i modi di allontanare il gas russo dall'industria tedesca, in effetti costringendo l'ultima al fallimento, poi sono arrivati subito, come sapete, le aziende statunitensi che hanno rilevato con molta gentilezza, tra rette e con pochissimi soldi, enorme impianto industriale della Germania, che ovviamente fallito per un semplice motivo, perché quando i tedeschi avevano creato un certo tipo di industria, avevano valutato un certo tipo di prezzo per l'energia, quando questo prezzo è salito di 10 volte, produrre certe cose è diventato più costoso di quanto costerebbe il prodotto alla fine, quindi inutile continuare a produrre, bisogna vendere le produzioni, così sono arrivati gli americani e hanno rilevato queste aziende, questo è successo anche con aziende molto grosse, sia nell'ambito di automobilistico, sia nell'ambito di produzione farmaceutica, ci sono diversi aziende tedesche che ormai appartengono agli Stati Uniti. Nonostante il gasdotto Nord Stream è stato sabotato, comunque c'è ancora il gas russo che viaggia verso l'Europa. Voi forse riderete, probabilmente alcuni di voi lo sanno già, perché io l'ho spiegato in altri video, ho toccato questo argomento, anche se non ho mai dedicato un video intero a questo argomento, però ho raccontato di questa realtà, voi sapete che c'è il famoso vecchio gasdotto, si chiama Drushba. Drushba passa attraverso l'Ucraina e l'Ucraina con gasdotto Drushba guadagna parecchio. Adesso come uno dei pochi gasdotti, perché dopo la distruzione dei due gasdotti del Nord Stream, Drushba è stato anche sovraccaricato e adesso guadagnano parecchio gli ucraini. Guadagnano nonostante fanno la guerra contro la Russia, cioè nonostante la Russia e l'Ucraina fanno la guerra tra di loro, c'è comunque il business che va avanti, c'è comunque il gas russo che viene venduto attraverso l'Ucraina e quindi l'Ucraina, mentre va in giro, chiede armi, mentre manda quei droni sul Cremlino, fa queste operazioni teatrali, diciamo così, in realtà sotto banco conta i soldi che provengono dalla vendita del gas russo. Però di recente cosa è successo? Probabilmente il potere di Zelensky sta cercando di utilizzare il fatto che lui riesce a intervenire sulla fornitura del gas russo in Europa, il gasdotto va in Ungheria e probabilmente lui vorrebbe in qualche maniera minacciare quei europei che non sono leali con lui e proprio ungheresi non sono leali con Zelensky. Voi sapete che il premier ungherese, Orbán, spesso tra l'altro criticato da vari democratici, liberali occidentali, quelli che sono pronti a vendere il proprio di dietro agli anglosassoni, quelli che sono pronti a vendere alla propria mamma agli oligarchi anglosassoni, loro detestano Orbán. Perché? Perché Orbán non si comporta come si comportano loro. Con suoi pregi e difetti, perché io non voglio qua trasformare l'Orban in un angelo sceso dal cielo. Avrà i suoi difetti anche lui, però nell'ambito della politica europea lui ha fatto una serie di decisioni che vanno contro gli interessi dell'oligarchia anglosassone. È stato da solo a farlo. L'Ungheria di Orbán non ha voluto fornire gli armi, gli aiuti all'esercito ucraino. L'Ungheria di Orbán ha fatto diverse proteste contro l'influenza dell'Ucraina su alcuni affari sia dell'Europa Unita che della Nato. In effetti diversi ministri ungheresi hanno detto ma perché noi vediamo questo personaggio, questo attore comico, diventato presidente di un paese che non c'entra niente con la Nato, non c'entra niente con l'Europa, che ha l'arroganza di dire a noi europei membri della Nato cosa noi dobbiamo fare, quanti armi le dobbiamo spedire, quanti milioni le dobbiamo dare, ma per quale motivo? Quale senso? Noi abbiamo fatto con lui degli accordi? Abbiamo degli interessi comuni? Chi è questo qua? Perché ci disturba? Perché noi dobbiamo distruggere l'equilibrio interno del nostro paese, della nostra economia per sostenerlo? In luce di questo, recentemente, l'Ungheria di Orban ha fatto un'azione abbastanza grave, grave in senso che da questa azione dipende un'importante decisione presa, nell'Europarlamento a livello di finanze, ovvero l'Ungheria di Orban ha bloccato 500 milioni di Euro che dovevano andare all'Ucraina. Quindi gli ungheresi hanno detto a noi non piace il fatto che questi soldi vanno all'Ucraina quando secondo noi potranno essere spesi meglio qua in Europa. Perdonatemi. Ovviamente Zelensky si infuria e cosa inizia a fare Zelensky adesso? Zelensky ha fatto un'affermazione allucinante. Questo dimostra tra l'altro quanto basso livello della preparazione politica di questo personaggio. È chiaro che lui legge quello che le danno i suoi padroni dagli Stati Uniti. Nel 90% dei casi lui neanche capisce che tipo di situazioni possano suscitare le sue affermazioni. In questo caso sono sicuro che è così. Lui dice, Zelensky, che se l'Ungheria continuerà a bloccare questi soldi e comportarsi così, l'Ucraina può danneggiare, distruggere il gasdotto quindi hanno fatto i calcoli che a loro conviene di più distruggere il gasdotto, dal quale comunque loro prendono i soldi, per sbloccare 500 milioni che arrivano dall'Europa. O almeno minacciare di distruggere il gasdotto. La risposta, cari amici degli ungheresi, è allucinante. Allucinante l'affermazione ucraina. Già siamo in fantapolitica. L'Ucraina vuole distruggere il gasdotto dal quale si alimentano i paesi europei, quindi mettendo in difficoltà, mettendo all'astrico l'Europa che dà a loro i soldi. Cioè è come, sapete, è come quando tu dai da mangiare al cane e lui mangia la tua mano insieme con il cibo che tu gli stai dando. Questo fa Silensky adesso. Minaccia di togliere il gas russo ai paesi europei nello stesso esatto momento in cui viaggia in Europa e chiede agli europei più soldi, più armi, più sostegno e così via. Però la risposta degli ungheresi è allucinante. Gli ungheresi? Allora, le ha risposto Gheorghi Nogradi, un capo di sicurezza, l'esperto di sicurezza ungherese. Lui dice che nel caso se l'Ucraina realmente cercherà di danneggiare questo gasdotto, siccome questo gasdotto in Ucraina fa soltanto passaggio, il paese che riceve è Ungheria, l'azione contro questo gasdotto da Ungheria, sarà considerato un'azione di guerra. Quindi per gli ungheresi, se gli ucraini distruggeranno il gasdotto, sarà come se gli ucraini li invadessero, il loro territorio. E qua il Gheorghi Nogradi dice, secondo l'articolo 5 della Nato, questo è un attacco all'Ungheria e quindi attacco alla Nato. Quindi secondo l'articolo 5, e qua veramente fa ridere, la Nato dovrà invadere e debellare Ucraina. Amici, siamo veramente alle comiche, però in tutte queste comicità c'è tanta tragedia, perché quando stiamo parlando, stiamo parlando purtroppo di processi che possono scatenare delle devastazioni che noi non immaginiamo. Quando succedono queste cose, quando io vedo come un personaggio politico non è in grado di intendere e volere, con problematiche personali, io non voglio adesso approfondire quali, quando lui viene messo al potere e gli viene conferito soprattutto il potere di comunicare ciò che lui dice e pensa alle masse e agli altri paesi, le sue parole diventano più pericolose delle armi. Perché come avete visto, da una semplice dichiarazione idiota, ovvero adesso noi distruggiamo Gasdotto Druzba se voi non ci date, non sbloccate 500 milioni, perché lui pensa che lui è al mercato, questo non capisce cosa sono le istituzioni, cosa sono le regole, cosa sono le leggi internazionali, cioè lui pensa che lui è uscito al mercato e sta comprando dalla nonnina un barattolo di yogurt, di panna acida, lui pensa di essere al mercato nella sua città natale, da dove viene lui da Crivoi Rock, viene, non mi ricordo, e fa queste affermazioni, lui non capisce la gravità di ciò che portano queste affermazioni e talmente crede di essere, come dire, impunito e protetto dagli americani che si permette di dire le cose che possono veramente scatenare un ulteriore conflitto e mettere il suo paese che è già demolito dalla guerra, che già è inesistente, perché l'Ucraina oggi esiste solo grazie al sostegno che le dà l'Occidente, altro giorno dall'Europa hanno trasferito i soldi all'Ucraina e con questi soldi il governo ucraino ha pagato i stipendi ai funzionari, questi non hanno i soldi per pagare gli stipendi ai funzionari dello Stato, il loro paese è fallito, senza sostegno dell'Occidente è fallito, ma stiamo fallendo anche noi, perché io mi domando quale interesse ha l'Italia all'interno dell'Unione Europea contribuire al mantenimento dell'Ucraina, quando noi in Italia abbiamo le regioni che sono adesso annegati, sono persone che hanno bisogno di aiuto, i terremotati da anni vivono nelle tende, vivono nelle casette, cittadini italiani, gente che ha pagato le tasse, vivono nelle situazioni disumane, abbandonate totalmente dal loro governo, per cosa? Per aiutare questa gente qua, a questi arroganti, che in questa situazioni, mentre il suo paese è ormai un cadavere, lui ancora vuole provocare un'ulteriore guerra, una roba allucinante, io ho letto, ho riletto questa notizia tre volte perché non ci potevo credere, ho detto ma è impossibile che questo non ha mai giocato a scacchi, questo non riesce a capire quale sarà il seguito del suo movimento della pidina, però in qualche senso io comprendo, lui non sa giocare a scacchi sicuramente, ma lui neanche si rende conto di essere una pidina, cioè lui pensa che questa è la politica, lui pensa che ripetere a papagallo ciò che ti hanno scritto a Washington e fare la politica, lui a mio avviso è veramente convinto, non so se per via della droga o per via di altre cose, comunque il fatto che adesso sta rischiando di scatenare un'ulteriore tensione con Ungheria, vi ricordo che tra Ungheria e Ucraina non scorre buon sangue, perché ci sono tanti cittadini ucraini che appartengono all'etnia ungherese che già da molti anni denunciano maltrattamenti da parte dei nazionalisti ucraini, io vi ho parlato in alcuni video l'anno scorso, nel 2022 ho fatto un video sulle dichiarazioni di una ministra ungherese che raccontava di queste brutalità e queste sono cose serie, sono cose che contano, sono cose che influiscono sulla politica pesantemente, però se c'è qualcuno che non lo capisce, se c'è qualcuno che si lascia manipolare, da queste situazioni si sviluppano conflitti, le guerre, disastri e purtroppo le morti di migliaia dei cittadini, questa è una tragedia, questa è una tragedia. Cari amici, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi invito di commentare il mio video, iscrivetevi per favore sul canale, se non siete ancora iscritti costa poco di mettere iscrizione, di mettere un like, per me è molto importante, per me è il segno che voi mi state seguendo, mi dà un po' di coraggio e energia per andare avanti, questo vostro gesto, quindi iscrivetevi al mio canale, noi tra l'altro qualche giorno fa abbiamo già superato 40.000 iscritti, il canale sta crescendo, io sono molto contento, sono molto grato a voi per la vostra partecipazione, io sono partito che eravamo pochissimi, non mi ricordo chi c'è tra i primi di voi che si è iscritto, i più anziani, eravamo qualche centinaio di persone, io ho cominciato a condividere i primi video, ancora insomma abbastanza, lo facevo in maniera abbastanza poco professionale, non è che adesso sono grande professionista, però un po' ormai ho preso la mano, mi sento molto vicino con voi e per me è molto importante ogni giorno fare qualche video, io immagino che voi siete qua vicino con me, che stiamo chiacchierando, prendendo il tè, ci scambiamo delle opinioni, per questo per me è importante non solo mandare i video online, ma anche leggere i vostri commenti, perché è come parlare con voi, è come comunicare, per me è molto importante sentirvi vicino, perché io sono grato a voi, grato alla vostra attenzione e io vi voglio bene, questa è la cosa più importante, vi mando un forte abbraccio, grazie.